ciao a tutti youtuber sapete bene che i design di obata sono a dir poco difficili quindi per la colorazione di questo speed paint passiamo da delle semplici fabre castell alle mitiche carandage che mio fratello mi ha regalato a natale iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.